Replica dell'amministrazione comunale di Biancavilla, i residenti di via Cecoslovacchia che hanno raccontato ai viventi quattro i disagi che vivono da ottobre per la penuria idrica causati da guasti alle condutture. Gli abitanti della zona evano dichiarato di aver fatto presente al sindaco Bonanno la situazione, ma dopo una prima rassicurazione il primo cittadino non aveva più risposto loro. Per l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Mario Amato, la giunta sta invece già provvedendo a sistemare i guasti. Amato aggiunge che dopo un sopralluogo effettuato in via Cecoslovacchia insieme all'assessore Alfio Stissi era stato anche promesso ai residenti nel caso in cui fosse stato necessario l'arrivo delle autobotti per rifornire i recipienti e ridurre i disagi. Al nostro microfono l'assessore Amato. In quella zona è stata fatta una singola segnalazione da una signora che ovviamente dice che ci sono queste perdite e quindi bisognava intervenire. Mi sono adoperato tramite il mio ufficio tecnico. Alla signora gli sono state date delle direttive su come agire su questo problema. Gli ricordo anche ai cittadini di quella zona che nel periodo tra Natale e Capodanno ci siamo andati, ci è andato il sindaco, io ero presente anche e tutti c'è anche l'assessore Stissi. Noi faremo ulteriori verifiche e vediamo come risolvere alla radice questo problema. Se il problema lo deve risolvere l'amministrazione comunale, che i tecnici mi dicono di no, quindi la parte comunale tecnici la facciamo noi. Ma se dipende dal cittadino o dai cittadini noi abbiamo delle ordinanze anche da applicarlo o da fare. Quindi andiamo incontro anche a questo tipo di situazione, questo che sia chiaro per tutti quanti. Cioè è impensabile che si faccia un accordo dove l'amministrazione dice tu cittadino interviene per quanto tuo che poi siamo noi a dirti quello che devi fare o quello non devi fare. Non è questa quale è stata giusta. Noi abbiamo dei regolamenti che si hanno applicato rigorosamente. I nostri regolamenti sono stati votati ai tempi dai consiglieri comunali. Noi siamo un'amministrazione aperta al confronto.